buongiorno rosaniec rosaniec sveglia ah buongiorno si buongiorno devo partire stefanik apri sta porta si ci sono io sono sveglio dai andiamo ma che ci fa la sita qua avete messo le valigie cioè avete messo le vostre robe si dai entriamo ma cosa c'è qua dentro cosa c'è qua dentro ma che che ha messo il bidon? dai no dai levatela si la dobbiamo portarla al congestionare non è il nostro il camper lo volete capire chi l'ha messo questa cosa? dai 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 no 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 continuano ad andare sario sario continua ad andare eh poi mi sono messo con la fecece sario continua ad andare voglio buttare vabbè ma andiamo stefanik portaceli tu le chiavi stefanik rosanik dici adesso che ho preso le auto vabbè io me ne vado a fare le mie cose ok ok voi se volete andate a casa ciao ciao farò dei regali a rosanik un orso mettiamo ok vanno a prendere le ultime cose e poi andiamo a casa di rosanik rosa ok ok voi poi levare una macchina di queste due macchina dovete questo camion fu dentro vai ho una bella cosa per te oh io ho giusto su amazon dai dai vini togli le macchine lecchie le macchie perchè toglie e pediaci le cosa qua dentro pensate ooooh ma levati ok ok rosanik sei pronto? guarda coso saluto dei regali per te ho fatto dei regali ti piacciono ahahah wow incredibile incredibile è ritornato bambino in un tratto no vabbè no vabbè no vabbè voleva la flexale voleva la flexale davanti a se con i tuoi voleva la flexale guarda i regali che c'ho avuto io ma vatte vado a te vado a fare la tua cosa cosa fine era fa che fine fa la tua casa cosa cosa qu'ha non